Salve a tutti amici e benvenuti a questo nuovo video, io sono Salvo Pimpos e oggi sul consiglio del nostro amico DomiCraft Minecraft PS Vita giocheremo a Eyes Allora si tratta ovviamente di un gioco horror in cui dovremo raccogliere delle sacche di monete disperse in una bellissima casa proprio al buio ma c'è una bellissima testa volante che ci rompe i coglioni e ci scopre e ci uccide e ci seppellisce vivi allora cominciamo su, chi è sta cosa? Un cuscino, un letto, una scarpa non oso immaginare che fine abbia fatto il tizio di possessore di questa scarpa ehi, una televisione, accendi, accendi, accendi che ci vediamo i video su YouTube di Salvo Pimpos ho aperto io qua, sembra che qualcuno, la sacca, sembra che qualcuno aveva aperto una porta, che ne sovi ok, uno di venti e ne abbiamo tempo, ne abbiamo tempo, qua qua non si vede niente peggio di mental ospite top the map e con dosi di me, ok bellissima mappa proprio dettagliata come non mai, ma chiudi patch the door to open nuovo modo di aprire le porte, schiantarsi sopra prenderla a testate e le porte in permagie si apriranno le maniglie, a che servono le maniglie? hai detto, fanno 19 bec, ah da qua perfetto, ah da qua c'è l'uscita ma prima dobbiamo trovare i sacchi di manetta questi chi sono? zio zio ma che ci fai pure qua tu? testo il rumore una cassa che non c'è niente a chi sono questi? che faccio? scendo salgo la trascenda c'è un po' di vento, alziamo così così mi prendete paura non so, me la prendo io, la dovete prendere pure voi un occhio prendi l'occhio ah gli occhi servono a vedere dove il tizio è qua sotto minchia qua sono, sto salendo, sto salendo perchè questo, questo mammazza che è? è qua ammucciati non mi scoprire ti ma sono c'entrato di non in casa mia, c'è la mia camera, ma che merda ma che merda da andemi di quando bellissimo orologio fashion di lusso pure fermo a un cammino la mia camera, entra 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 che sento rumori bella che come che è una chiave una chiave mi serve la chiave ecco non passare sotto le scale e infatti non ci passo non si sa mai non sono superstizioso ma non si sa ok qua siamo dove va bel divanetto quasi quasi mi rilasso 5 minuti la sacca una sacchina qui un'altra qua e anzi si trovano facilmente possiamo uscire se il tizio qua non mi scopre andiamo prossima porta bello bellissimo questo posto è fantastico che nemmeno una sacca come avete messo che sono qua mi faccio due canzoncine al pianoforte qua non c'è niente c'è una sacca gliela potevate mettere pure qua però questa non è una sacca no non è una sacca in una sedia che ne so niente tirchi apri qua e qua ci sono andato no mi datela una sbarazzata va bene che minchia che è no no corri no è qua ammucciati non guardare dietro minchia è qua piccio è qua piccio che devo fare no non guardare non voglio guardare non voglio guardare non voglio guardare sto guardando non c'è nessuno non c'è nessuno che commenta ospite da tutto il rumore niente arrosto hai visto dove portare prendi sta cosa di nuovo di nuovo il rumore ci sono apri il frigo guardiamo che c'è dentro il frigo ci prendiamo un pochino di frutta qua penso di aver fatto tutto qua dobbiamo scendere ma il tizio dov'è andiamo giù o andiamo su c'è chi due si buttò completamente che è vaffanculo il topo mi sono scantato che il topo aspettiamo che c'è dall'altro io mi perdo qua sacca siamo ancora sei io mi perdo però topo di merda te ne vai che non solo dove cercare le sacche qua in mezzo al nulla che è ma soldi soldi mi servono piccoli mi servono affronti mostri per i piccoli sacca 8 ma da dove esce sto vento è tutto sigillato manco ci sono finestre com'è che si sente il vento andiamo in quella porticina se la ritrovo prima talè e questa gliela lasciamo qua che dite gliela lasciamo qua così per ricordo del nostro passaggio no che c'è perché chi è dov'è no no apri qua apri qua anzi vince quante sacche 14 ne è valsa la pena via c'è qualcuno spero di no le sacche sacca sacca 15 sacche me ne mancano 5 me ne mancano 5 sacchine chi è no no entra qua no non mi trovare no non mi trovare no minchia se entra qua sono morto no non entrare qua non sono qua tu stati ferma saranno perché dove giocare a questi giochi ragazzi perché vi consigliate questi giochi che io muoio mi volete morto il canale l'ho aperto da poco e già mi volete morto e allora quando ce ne sono mi scanto io minchia no 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 l'ho visto l'ho vista dietro che faccia da minchia vai vattene non puoi correre più di così no non puoi correre più di così perché ti stancano le pavole di nuovo qua mi infilo no non mi inseguire qua minchia no non venire qua non venire qua sono andato sono andato vattene valla qui in fondo qua dovrebbe esserci le scale infatti oh a cacare ok adesso dobbiamo salire vediamo dove lo stronzo in giacquato è qua forse sopra sta porto tutte le ho viste in parisi qua ci sono andato chi è? dove cazzo era? non l'ho vista ho preso che c'è? dov'è? dov'è? no levati levati che l'ho visto dov'è? 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 puttana 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 play again mi devo riprendere prima però ti avrò tutto da capo che palle qua ce ne eravamo non c'è più non c'è più perché hanno cambiati posti o ogni ho sempre 15 non c'è più perché hanno cambiati posti o cambiano pure i posti cambiano non solo mi rompono le palle è salito sempre se non scende di nuovo sempre se non scende di nuovo e lo incocciamo nelle scale fantastico proprio ora lo incocciamo nelle scale guardate quanto sono fortunato lo sapevo lo sapevo perché? perché faccio le cose quando le so? perché? c'è ma ancora sacca mi hanno messo qua dai stavolta salgo però questa è mai dove andare sempre sotto o mai l'abbiamo capito qua vattene di sopra prima che risale la zoccola ho visto dov'è quel cazzo di posto sacca testo occhio e' bella sacca c'è fa culo sacca no non entrare qua sto cacando non entrare qua c'è la privacy ti posso denunciare ma chiave c'è la chiave qua l'hanno portata ciccio io sto cacando ti denuncio per privacy bella canzoncina bellissima ma la metterò proprio in macchina e l'alzerò tutto volume l'alzerò te ne sei andata in che tre ore però ah mi esce esce una porta qua dove sono mi sto perdendo io qua combinazione non so che mi serve ma ho trovato una combinazione che stai stampando l'alzerò c'è un po' gli occhi c'è niente caccia mancuna sacca ha fatto proprio schifo foto è andato se ancora qua mi fai cucù mi fai andiamo di qua altra porta anfe di qua che è non funziona non funziona non funziona niente non funziona una sacca c'è niente c'è niente c'è niente c'è niente c'è niente caccia 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 porta ecco dove la combinazione sta salendo dove sta salendo dove però dove sono io sì sì nasconditi enfilo di qua un filo di assurdo però riesca a fare niente a questa mi trova ora c'è la tizia e mi scassa l'occhio non c'è niente caccia caccia non mi trovarai qua perchè ti ammazzo dove sono cazzo sono sacca no filati qua un filo di che certizio dove dove sono andando mi sto infilando buono sa che sa che 15 sacche arriva 15 ogni volta con la vintura riscaldare oltre andiamo di qua che è una scalacchiocciola saliamo scalacchiocciola saliamo ho detto non buttati che c'è qua un libro una sacca 16 minchia ora mi tocca andare nel coso però dobbiamo scendere di sotto raga ora come fa c'è quello in mezzo alle scale proprio manco gli occhi una sacca 17 minchia qua mi sento rumore qua belli costi pesci fantastici che cosa minchia qua aiuto entra no esci esci entra se ti decidi piccio non riesco a vedere dove è lei perchè non ho più occhi ma dobbiamo scendere io scendo piccio è che il dio dei giochi c'è la man di buona veloci veloci speriamo che non sia qua no è qua è qua è qua è qua è qua è infilati qua infilati qua la sacca non c'è non c'è speriamo che non mi trovo all'ultimo sto finendo salve sacca 18 ultimi due dov'era la prigione 19 occhio 20 non so dove 21 ma si abbondiamo 22 ma quanti ce n'è abbondiamo dov'è la prigione è qua questa mi sta ammazzando voglio andare a proteggermi nella prigione ma quanti sono 24 25 25 sacche aspetta adesso dobbiamo aspettare che la tizia però è infatti che sta salendo ma dove sta andando però minchia non si vede io devo salire pure ragazzi non lo so se ce la farò ragazzi sappiate che vi voglio bene comunque vada no 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 vaffanculo no no dai non si può alla fine non si può però dai ragazzi non si può 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 cioè 25 sacche diretturo preso e mi mandi mi ti vai a mettere le scale cioè io non posso salire questo è troppo bastardo c'è per me troppo bastardo comunque ragazzi se le video è piaciuto mettete un mi piace condividetelo falterò anche nella pagina facebook e negli altri social di cui trovate il link in descrizione iscrivetevi al canale per oggi è tutto al prossimo video ciao